Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla 3 Napoli-Salerno, fino alle 6 del 5 gennaio, per lavori di manutenzione è chiuso lo svincolo Napoli-Porto in uscita verso Napoli. I veicoli diretti al porto dal Varco Bausano possono uscire allo svincolo San Giovanni-Atteduccio, zona industriale, e proseguire sulla viabilità urbana. Sulla strada statale 6 Casilina, fino al 12 gennaio, nella fascia oraria 7.30-17, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi, per lavori attivo al senso unico alternato, tra le località Presenzano e Verano Scalo. Sulla strada statale 19 delle Calabrie, fino al 12 gennaio, nella fascia oraria 7.30-17, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi, per lavori attivo al senso unico alternato, tra le località Campagne e Casalbuono, in tratti saltuari. Sulla strada statale 372 Telesina, fino al 12 gennaio, nella fascia oraria 7.30-17, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi, per lavori attivo al senso unico alternato, tra le località Verano Scalo e Dal Vignano. Dalla redazione Muoversi in Campania, Emanuela Belcuore.